Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto un nuovissimo video riguardante una trattativa che si è appena conclusa per quanto riguarda il nostro amato Lecce. Prima di parlarvene però vi chiedo come esempio di lasciare un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Allora, questa è una trattativa che è esplosa all'improvviso e si è conclusa appunto poco fa. Allora, arriva il calciatore Matthias Norman classe 1996 della nazionale norvegese e tra l'altro con la nazionale maggiore anche disputato 12 presenze e un gol. Arriva in prestito secco di un anno solo prestito perché il valore del calciatore si aggira intorno ai 10 milioni e tra l'altro la squadra del cui proviene che è il Rostov, squadra di massima serie russa, ha anche rifiutato offerte da altre squadre che volevano accaparrarselo a titolo definitivo, offerte che si aggiravano intorno ai 15-20 milioni di euro da squadre tipo anche Gata Sarai. Quindi è un calciatore comunque di ottima prospettiva, ha comunque 25-26 anni, quindi è giovane, è un centrocampista centrale ma può fare anche il mediano. In tutta la sua carriera per ora ha disputato ben 151 presenze, segnando 7 gol e 21 assist, quindi è più propenso a fare l'assisman che segnare. Chissà potrebbe prendersi subito il posto da titolare vedendo un po' il valore del calciatore, potrebbe essere un ottimo innesto come terzo interno di centrocampo con Julmand e Bistrovic. Nelle prossime ore potrebbe arrivare già a Lecce, disputare le visite mediche e chissà se la forma fisica dalla sua parte potrebbe anche essere schierato titolare da Baroni sabato in Sassuolo-Lecce. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento di questo nuovo acquisto. Prima di chiudere il video volevo dirvi che appunto Di Mariano è vicinissima per essere la maglia del Palermo, dispiace vederla andare via ma sono sicuro che in Serie B farebbe molta più differenza rispetto a che qui in Serie A. Bene o male abbiamo acquistato vari giocatori anche lì sulla fascia, c'è la McBandà che può sostituirlo benissimo, c'è gli Stoschi, quindi bene o male sulle fasce offensive stiamo messi bene. Vi faccio un in bocca al lupo, noi ragazzi ci sentiamo in un prossimo video, forza Lecce sempre e ciao!